Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento finalmente ragazzi e lo so ma ho dovuto aspettare necessariamente delle uscite intermedie che non mi permettevano di andare avanti adesso ho tutto fino al numero 96 questo come potete vedere è l'uscita 76 voi tutti avete montato certamente fino al 96 però fate attenzione perché ci sono dei montaggi che se seguite le istruzioni sono assolutamente inopportuni per la durata appunto di quel particolare nella sua sede dove viene messo così come ci viene indicato dagli fascicoli io ve lo dico sempre ma quando arriverò a quel numero ve lo dirò e se potrete tornare indietro vi consiglio di farlo altrimenti pace ragazzi allora poi come potete anche vedere ho rivestito con le decalcomanie in Kevlar il guscio dei sedili e un regalo con il cuore che ho voluto fare al mio iscritto Giovanni che mi ha commissionato questo modello c'è da lavorare non ve lo dico quanto ci ho messo ragazzi perché i sedili penso che siano la cosa più difficoltosa fatta in una certa maniera anche con le sezioni all'interno gli ovale all'interno qui qua sopra ecco non soltanto così che già così basterebbe per farvi andare a fumare il cervello però io ho fatto un video a pagamento per gli abbonati diamante dove spiego tutto il procedimento e dico anche in diversi video come anche in questo attenzione se non avete mai fatto questo tipo di intervento non è una cosa semplice ve lo dico per onore del vero perché poi andate a pagare un abbonamento e poi non riuscite a farcela le decalcomanie me le ha mandate lui io non ho messo il nome dell'azienda perché non mi pagano e ha dovuto pagarle per poterla avere giustamente io chi sono ragazzi sono michele ma sono per molti uno qualsiasi no e quindi non è che mi devono dare nulla ragion per la quale se andate su internet e vorrete rivestire i vostri gusci dei sedili potrete trovare diverse aziende che commercializzano questo tipo di prodotto intanto ringrazio tutti i miei iscritti tutte le persone che mi visualizzano grazie ragazzi di continuare a contribuire a dar vita al canale grazie e un abbraccio sentitissimo ai miei abbonati che continuano ad aiutarmi con i loro soldini grazie speriamo che altri seguano il vostro esempio ragazzi quando l'acqua scarseggia la papera non galleggia proprio allora e a tutti gli altri dico sempre che ne abbiano piacere iscrivetevi al canale attivate la campanella sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto infine come vi ho già anticipato prima per il mio iscritto giovanni che mi ha commissionato questo modello se ci fosse qualcuno interessato al montaggio dei modelli mi contatti privatamente grazie allora all'interno l'apparatia interna sinistra che è questa con i due tubi tre serie di viti kp ap e ep tutte e tre da avvitare nella plastica in questo bustino non vedete nulla perché io sono già andato a crearmi i filetti negli appositi fuori eccoli qui non usate olio e mi raccomando due tubi sono delle molle rivestite con del termo estinguè termorestringente e potete creare anche voi queste cose qui e vi ripeto si compra un termorestringente che sono delle guaine per fili elettrici ma va bene anche per qualsiasi lavoro di modellismo dove richiedono questi effetti e se volete ricreare prendete delle molle scaldate con il fond e si stringe intorno e avete fatto questa questa cosa estetica carina ecco io sono andato già incollarmeli col bicomponente perché perché quando andrò a piegarli per inserirli all'interno qui vi faccio vedere questo più lungo poi andrà messo qui dall'altra parte ci sarà l'altra e questo più corto invece va messo nel metallo quando poi andrò a mettere questo all'interno del dello chassis della parte bassa ok allora prima cosa vado a rimuovermi le tre viti ap non è indispensabile farvi i filetti io ve lo dico soprattutto mi rivolgo alle persone che mi guardano magari per la prima volta e di me non sanno nulla però creare di filetti è sempre una cosa che vi può essere utile e può aiutarvi a non fare danni laddove invece è consigliabile appunto fare il filetto però mi raccomando come ho già detto non mettete assolutamente olio nelle plastiche mai anche se tanti lo dicono ma non lo fate per le ragioni che ho più volte spiegato è rimanere così tanto distante dal pezzo perché ho guardate sono almeno mezzo metro io dal pezzo non sembra ma è così anche di più quindi non è facile perché mi devo chinare con la schiena non urtare questo che lo faccio spesso non volentieri ma lo faccio spesso ecco qui adesso controllo vediamo questo riferimento qua sotto che un nastro carta una lettera che serviva ma non adesso non mi serve più e vediamo qui qui posso avvicinare un po si posso avvicinare un po e lo faccio questo anche lo posso avvicinare un po per ridurre questo spazio quindi pollice indice e lo faccio vedete e avvito dovete avvitare solo così perché avete la sede molte volte vi è possibile anche riuscire a eliminare certi spazi certi diciamo certe cose che possono essere anche estetiche anche se qua non vedrà niente nessuno però se siete abituati a lavorare così quando poi vi troverete un pezzo che è a vista ecco sicuramente l'estetica sarà migliore bene adesso metto adesso vado a montare questo su questo il roll butt quindi consiglio incollatevi tutti i perni tutti anche questo qua sotto è mi raccomando questo vedete cambiamo la punta siamo ovviamente quella più piccola perché le viti kp sono molto piccole e adesso cerco di darmi da fare a pubblicare più che posso di questi video finché mi riporto in linea finalmente per la ferrari 312 t4 di gilles villeneuve di hachette edizione hachette sempre in calcola una otto purtroppo mi manca l'uscita numero 25 mentre invece della lancia delta di via zion mickey via zion e tiziano siliero la racing martini racing come livrea mi manca numero 12 ma li ho tutti e io tutti come per questa insomma ok chiamola così in effetti l'apparatia andava ci faceva facciamo montare dopo ma non cambia nulla ragazzi adesso vi faccio vedere che non cambia nulla era più comoda e montarla dopo io quando mi metto a parlare molte volte poi mi fermo e dico cosa ho fatto ecco qua vediamo un po i tubi dove vanno messi così ora ecco qua questo però sta da questa parte così adesso posso mettere le quattro viti ovviamente devo centrale fuori e con i perni siamo prima questo che è una guida ecco qua questo va qua dentro così e questo qua ma qui perfetto adesso posso evitarmi la prima dite eccola qui vedete mi sono creato il filetto tutto semplice così l'altra di qua questo modello devo dire che è fatto veramente bene ma centauria lavora bene avete visto cosa ha fatto sulla lancia stratos e sulla ferrari 330 p4 bene stessa cosa da questa altra parte qui non l'ho preso andiamo a vedere come mai ah per forza non lo potrò mai prendere così il forellino è e infine l'ultima così bene prende sempre più corpo ripeto la vostra sicuramente quasi terminata in realtà mancano ancora 14 numeri e adesso mi preparo quattro viti epi che terranno questa sulla parte inferiore dell'auto la parati in realtà si andava montata i tubi andavano messi dopo però io avendoli incolati prima perché poi vedete quando andrete a fare questo per piegare state tranquilli ragazzi che vi si sfilano di là se non vi si sono sfilati adesso poi vi si sfilano questi vanno comunque incollati io adesso li metto così ma vanno fermati vanno incollati anche questo poi andrà qua dentro in un foro che una volta montato ci sarà qui bene cambiamo di nuovo la punta al cacciavite che ci va quella più grande e adesso prendo la parte sotto eccola qui mi raccomando ricordatevi tutti i nastri neri che vi danno loro per attaccare i fili non usateli usateli come vi ho detto usate soltanto il nastro delato qualsiasi colore c'è anche nero io l'avevo grigio perché allora lo acquista il grigio per un lavoro che feci dove era richiesto appunto un colore più vicino ed era questo il grigio ma lo vendono anche nero e di altri colori perché perché questo non vi si stacca ragazzi col tempo secca ma non vi si stacca ok bene quindi una volta fatto questo posizioniamo sopra per posizionare sopra questa bisogna fare attenzione che questo pezzo qui vada perfettamente incastrarsi nella sua sede quindi prima cosa levo i tubi in mezzo ovviamente mi accerto che questi elettrici passino questi cavetti elettrici vedete questi scusate perché lo spazio è quello che questi questo è del pacco batterie poi ci sarà anche quello delle luci un po' di qua un po' di là per l'altra fanaleria destra e i fili devono passare vi faccio vedere così che è meglio in mezzo alla canalina è importante questa canalina qui ecco così come anche da questa parte quindi fatto questo ecco qua allora abbiamo anche qui i due pezzi poi dello sterzo ma sono liberi va bene così parlo dei due pezzi che poi vanno messi su questo pezzo grigio con le apposite viti nei montaggi successivi allora qui sono dentro la linea della canalina qui ho il ferro che mi dà fastidio che esce quindi ruoto un po' lo sterzo altrimenti qua batte quindi vedete se faccio così me la sposta vedete così è libera adesso con calma perché bisogna fare il lavoro con calma e senza rompere nulla ovviamente quindi questo va qui e qui entra abbastanza bene dall'altra parte no ancora allora andiamo giù tutto deve incastrarsi perfettamente ragazzi non mettete nessuna vite prima che questo sia stato ottenuto che tutto si incastri bene altrimenti non serve ok andare giù ancora un po' qua ancora 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 qui è perfetto da questo lato adesso qui va benissimo ma ancora non va bene di qua assolutamente ancora non va bene di qua deve scendere e noi tre che io vado a mettere le viti qua sotto adesso non serve ok quindi prima di schiacciare guardo che non ci sia qualcosa in mezzo ma credo di no i fili sono completamente in ordine questi sono liberi questi in realtà potrebbero creare dei problemi e quindi li faccio andare più dentro così ok bastano quelle cose lì per non farvi entrare bene il pezzo dentro vedete qui siamo entrati perfettamente bene non so se si vede adesso provo a farvelo vedere vedete la plastica qui ancora no è entrato ma non basta ancora perché qui sono più alto rispetto a questo punto scusate qua sono più basso dove è entrato correttamente e qui sono un po' più alto e non va bene quindi va messo ancora più in giù però se non scende c'è qualcosa che glielo impedisce se lo spazio qui è libero vediamo un po' dove siamo adesso adesso siamo a posto però perché vedo che lo spazio che ho qua lo spazio che ho tra questo pezzo è qui e lo stesso che ho tra questo è qui io direi che più di così non può andare assolutamente questo va bene anzi faccio che mettere direttamente già la parte dello sterzo dentro dentro queste barre qui dello sterzo lo faccio entrare dentro questo foro qua vedete che ce n'è due no? eh lo so ragazzi voi l'avete già montato però io devo per forza farli i video mica posso passare subito al 94 con la macchina già montata quindi facciamo così alzo questa parte lo sterzo a questo punto lo posso girare di là perché ho il foro qua nel parafango per il passaggio appunto dello sterzo della cremaiiera ecco qua è meglio farlo adesso questo passaggio perché poi diventa più complesso così o magari anche non lo diventa complesso però perfetto a questo punto le istruzioni cosa mi dicono vado a vedere un attimo ok devo centrare questi due perni qua dietro in questi fori ecco questi perni ragazzi lasciano il tempo che trovano non si fanno mai cara centauria dei lavori del genere questi perni si fanno in metallo assolutamente non in plastica comunque allora per inserirli non devo assolutamente e magari si romperanno ugualmente non devo assolutamente spingere questo ma devo calzarli da sopra così tutti e due insieme in un colpo solo 1 e 2 e poi spingere in giù ecco fatto vedete perfetti non si sono rotti ma comunque non è un lavoro fatto bene da parte di centauri assolutamente questo adesso vado a mettermi le quattro viti e di queste quindi così allora per essere sicuro che le quattro viti che devo andare a mettere siano messe con la plastica a contatto sotto già direttamente al metallo perfettamente bene mi basterà inserirne una e vedere quanto esce se si affonda subito la vite e c'è qualcosa che non va vuol dire che ancora la plastica va assolutamente avvicinata alla parte della macchina qua invece sembra che vada bene vediamo mamma mia ragazzi lavorare così non è lavorare oddio lavorare scusate facciamo così mettiamo questo devo sempre guardare dove schiaccio perché se mi distraggo faccio danno e non è assolutamente il caso bene qui è perfetto perché ha preso molto bene stringo tutto dopo vedete che la vite rimane fuori vuol dire che va bene se la vite fosse entrata tutta dentro fino in fondo non va bene perché non credete che una vite su filetto in plastica possa tirarvi in posizione corretta al pezzo no dovete prima arrivare nella posizione corretta e poi la vite deve fare da tenuta e basta mi raccomando allora qui devo dove posso premere qui in realtà in nessun posto ha preso oh perfetto quindi così non si avvita allora faccio che avvitare subito anche questa poi metterò il modello rovesciato dall'altra parte ok ok un'altra portata scusatemi al fascicolo allora sì e l'altro è qui l'altra vite riesco forse a metterla così sì sì perfetto questo è uno degli assemblaggi più semplici che mi siano mai capitati ecco qua vedete qua abbiamo la riproduzione del finto Kevra bellissima però nei sedili nel guscio non c'era adesso invece c'è eccola qui bene questo montaggio credo che sia terminato credo proprio di sì fascicolo mi è caduto per terra non ne sono neanche accorto allora vediamo un po' lo cercavo dietro di me non lo trovavo più sì qua ci dice di inserire il tubo e di mettere anche l'altro vedete questo qui così ecco perfetto vedete qua vi si sfinano i tubi se non li avete incollati anche qua sotto io la metto la colla perché non deve staccarsi nulla una volta che chiuso il modello come fate poi a reinserirlo dentro non ce la fate più ragazzi quindi anche se pensate che questo non vi si toglierà mai e magari anche così però mettetela della colla ricordatevi soltanto di non usare la loctite perché vi vetrifica le plastiche ok io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo guardate che meraviglia un saluto a voi e un saluto e un abbraccio anche a voi e un saluto a tutti i vostri cari più cari un grazie ancora rinnovo il mio sentito grazie e anche i miei abbonati che mi danno dei soldini e se ci pensate ragazzi guardate che è una cosa meravigliosa io non conosco nessuno di quelli che mi hanno donato i soldi sì sento qualcuno telefonicamente ma io non conosco nessuno a livello proprio fisico stretta di mano non ci siamo mai visti sarebbe bellissimo un giorno incontrarsi ma non solo per il fatto che siete i miei abbonati però è bellissimo pensare che voi avete deciso di darmi comunque una mano perché questi canali senza un aiuto economico questo appello che io faccio adesso non è un appello che faccio così perché voglio che mi diate i soldi è ovvio che se ci fossero più persone per me sarebbe tutta un'altra cosa neanche a dirvelo più persone chiaramente non solo iscritte ma che mi aiutano economicamente però un canale come il mio piccolo sì pieno di passione come anche quelli grandi ci mancherebbe che hanno passione e più competenze di me di sicuro ma è bello pensare che grazie a questi aiuti io riesco ad andare avanti alla fine il canale è vero che è il mio canale ma è un po' come fare un film e nessuno va a vederlo sto dicendo delle cose tanto vere quanto banali no? o qualsiasi altra azione cioè se non c'è qualcuno che ti guarda che ti aiuta alla fine non siamo tra virgolette non siamo nulla no? in ogni cosa che facciamo ci deve essere l'aiuto ragazzi molti sento dire no? molti no ma alcuni non è che frequenti tanta gente per cui alcuni dicono io ho fatto tutto da solo non ho mai aiutato nessuno allora a me se non concesso che sia vero scusate mi si apro questa parentesi ma era legata al fatto degli aiuti che sono importanti e servono a me se non concesso e poi vi dirò perché non concesso che non abbiate mai avuto voi bisogno di nessuno bisognerebbe chiedersi come siete arrivati fino a lì prima di dire questo e poi ragazzi nella migliore delle ipotesi che diventiamo anziani se vi siete creati intorno a voi con l'amore certe cose vi tornano non tutto non vi torna tutto ma magari qualcosa vi torna certo è che se non vi siete creati nulla beh ragazzi c'è chi rimane da solo e non ha colpa di questo e c'è chi rimane invece da solo e ha tutte le colpe di questo mondo ce le cercate proprio quindi alla fine chi potrà dirmi magari in qualche commento anche se non è il canale giusto per parlare di queste cose però io sono fatto così sì però Michele io ho fatto sempre del meno risultato del male allora guardate una frase che non è mia ma è bellissima fate la vostra è bellissima dice che dietro ogni buona azione era chiusa la giusta ricompensa è vero cosa vuol dire non dovete fare le cose belle perché Dio magari riguarda o chi per esso o qualcuno in cui voi credete con tutto rispetto per carità non dovete dovete fregarvene di questo ma attenzione io ho detto questa questa frase un po' esagerata di fregarvene non perché non vi dobbiate interessare a Dio se siete cattolici no ma lo dovete fare per voi poi lui è contento ma è per voi che dovete farlo quando fate un'azione buona è per voi se amate qualcuno lo amate per voi non dovete fare le cose di riflesso non è amore io non sono la persona più adatta per dirvelo però vi parlo di questo perché sto affrontando delle cose molto brutte e non ve ne parlo di questo e vi dico che a parte la mia mamma ricoverata io ho il mio gattino Michelangelo il mio amore ecco perché il mio fratellino è la mia compagna ma sono completamente da solo per il resto però però io con tutta la mia autocritica so che non mi sarei proprio meritato tutto questo ma è capitato però in coscienza io sto bene capito non è che penso ah ma Dio mi aiuta ma che ragazzi ci sono prima i bambini che noi ok ma questo è una cosa molto più grande di me non voglio entrare neanche nel merito e ripeto nel canale però ho voluto semplicemente parlare a quelli che hanno il cuore perché chi non ha cuore non serve a nulla no non serve a nulla dire questo cercate di veramente rendervi conto che quando fate qualcosa vi arricchite più voi che quello che riceve il bene che vi avete donato che è bellissimo e rendiamoci conto ragazzi che tutti prima o poi avremo bisogno volenti o dolenti tutti avremo bisogno non è un malaugurio questo volete campare fino a 95 anni ma cosa fate state da soli non ci avete nessuno c'è sempre bisogno di qualcuno che ti può far da mangiare che ti può lavare i panni chi magari ti può aiutare anche per le polizie non solo di casa ma anche personali quindi ecco questo canale vuole essere un canale dove le persone che mi guardano mi devono anche potenzialmente sperando arricchire non ci sono professori qui io faccio quello che fate voi a casa come riesco a farlo semplicemente lo riprendo con il video però immaginatevi quanto è bello darsi un abbraccio vero è bellissimo cioè io che incontro una persona che mi ha aiutato col canale questo secondo me è un atto d'amore l'amore non è solo tra un uomo e una donna o tra due donne o tra due uomini l'amore è l'amore universale cioè un gesto d'amore è un gesto d'amore non è etichettato con un'azione rispetto piuttosto a un'altra fare del bene è una cosa che vi fa stare bene fare del male odiare è una cosa che vi porta sempre più a stare peggio voi e a fare del male a tutti quelli che vi incontrano che malaguardamente vi incontrano questo è il discorso io con questo vi voglio ringraziare di tutte le cose belle che mi scrivete quando mi aiutate che sbaglio come aspettate perché non voglio dire il nome il dottor Vincenzo il dottor Vincenzo che mi ha fatto notare che ho fatto due errori di svista dell'inserimento dei tubi e del click messo male dell'alzata della lancia 037 ecco queste sono le cose belle lui mi ha scritto una cosa bella che io sapevo già dentro di me ma è bello mi ha detto Michele noi ci aiutiamo siamo appassionati e uno aiuta l'altro questo bisogna fare ma non solo nel modellismo bisogna aiutarsi si sta bene ragazzi si sta bene non sono un prete non ho studiato teologia figuriamoci ho la scuola media ho il diploma delle scuole superiori e basta sono un geometra ma al di là di questo ragazzi davvero provate se non avete mai fatto nulla e vi sentite di provare e provare provate a fare un'azione bella ma ripeto per voi ragazzi non per piacere a Dio per voi perché Dio se vi vede come siete non è che dovete dirglielo voi che l'avete fatto con amore o per piacere a chi provate a farlo ragazzi vi fa stare bene anche se poi alla fine siete soli è un altro tipo di solitudine è diverso siete in pace con voi stessi ultima cosa e chiudo guardate che arrivare a casa lasciare dire cosa ho fatto di brutto oggi non vi chiedete cosa avete fatto di bello perché quello è giusto che è anche una vostra ricompensa come ho detto prima ma chiedetevi cosa avete fatto di brutto perché è importante cercare di non farlo più e di chiedere anche scusa ma di chiedere scusa ovviamente ai ragazzi alle persone intelligenti non acculturate la cultura è un'altra cosa la cultura si impara sui libri a scuola e lo può anche imparare la persona assolutamente priva di intelligenza ecco la persona priva di intelligenza che ripeto non è l'ignorante perché l'ignorante ignora finché uno non spiega certe cose se è intelligente poi le capisce e non le ignora più le ignora perché non le conosce io ignoro completamente la lingua tedesca ragazzi l'inglese lo capisco leggermente ma io sono ignorante ma non è che sono stupido però se mi mettessi a studiare e avessi voglia di farlo io imparerei la lingua quindi sono una persona intelligente ma in quel momento sono ignorante di quello le persone invece non intelligenti possono essere di tutte le fasce come si dice altolocate ma non sono intelligenti ecco con queste persone ragazzi c'è una frase che a me non piace è un luogo comune lavare la testa al somaro si perde acqua e sapone mamma mia adesso mi sto spostando chissà dove il somaro non è è sbagliato dire e comunque questo volevo semplicemente dire che se parlate con le persone non intelligenti perdete il vostro tempo se state nel posto di lavoro dove non vi apprezzano appena trovate un altro posto cercatele andatevene perché non valorizzano il vostro essere vi catalogano come un numero non va bene quindi non vi aspettate nulla da quei posti di lavoro lì o da gruppi di persone che non vedono che siete differenti non i migliori differenti ok per quanto riguarda il somaro e poi chiudo forse avevo detto già prima che chiudevo e sono andato avanti vabbè il somaro non è stupido ma dire che tu sei un somaro a scuola è ignoranza da parte delle persone della scuola stessa di chi ci ha dato questo modo di dire che è sbagliato il somaro è intelligente testardo come un mulo perché perché il mulo a differenza del cavallo che è bellissimo come il somaro il cavallo ti muore sotto mentre tu lo stai cavalcando io non sono uno che va al cavallo però queste cose le ho lette il cavallo stramazza al suolo se tu non ti fermi muore di infarto via perché il cavaliere non l'ha fatto fermare il somaro no il somaro si rende conto che non sta bene e si blocca il somaro è intelligentissimo basta che andate a vedere andate a vedere dei filmati quindi perché è come se uno è come se qualcuno si chiama Paolo o Michele come me e ce ne fosse uno al mondo dice Michele sei somaro come Michele ma perché io non sono un somaro ma perché ma perché dire questo non c'entra niente col video lo so ragazzi però mi piace parlare voi avete la possibilità di spegnere quindi il somaro non è stupido quindi questa scuola dovrebbe smetterla questo luogo comune di dire questo perché il somaro è molto intelligente e non merita di essere chiamato somaro e scusatemi no che non merita di essere chiamato somaro avete capito non merita chi non è bravo a scuola di essere catalogato come un somaro che invece è un animale bellissimo nobile per me e intelligentissimo non è uno che non è capace a fare niente io vorrei essere come un somaro guardate un po' ciao ragazzi grazie del vostro prezioso tempo che devo dirvi se avete piacere condividete i miei video nei gruppi dedicati e buono ragazzi grazie di tutto davvero e scusatemi ma posso sembrare un logorroico però spero di non aver parlato così a Vanvara ecco di avervi trasmesso qualcosa di me ciao a tutti che poi è quello che mi interessa ragazzi ripeto qua non faccio il professore ciao a tutti